Ci troviamo a Matera e in questi giorni dormiremo nel cuore del sasso caveoso. Adesso vi facciamo scoprire la nostra stanza. Benvenuti. Ecco la nostra camera, tutta scavata nel tufo e qui c'è anche una conchiglia. Abbiamo anche la TV, una bellissima zona relax con il divanetto. E ora vi facciamo vedere il bagno. Ecco qui il bagnetto, ma la parte che ci piace di più è sicuramente la doccia tutta scavata nella roccia.